Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. Il Big Bang, in italiano grande scoppio, è un modello cosmologico, basato sull'idea che l'universo iniziò a espandersi a velocità elevatissima, in un tempo finito nel passato a partire da una condizione di curvatura, temperatura e densità estreme, e che questo processo continui tuttora. Tale modello emerge dalla teoria della relatività generale, e dalla dimostrazione dell'espansione dell'universo. Rappresentazione artistica che illustra l'espansione, di una porzione di un universo piatto. Secondo il modello del Big Bang l'universo, si espanse da uno stato iniziale estremamente denso e caldo, e continua a espandersi oggi. Un'analogia molto diffusa nei libri di divulgazione, spiega che lo spazio stesso si sta espandendo, portando le galassie con sé come uvetta. Dentro la pasta di un panettone che lievita. Progettazione e creazione, maestra Monica, e professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia, le informazioni e le immagini, sono tratte da Wikipedia, o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo!